Salve a tutti ragazzi, sono Master, eccoci qua, carichi, carichi, carichi. Allora, sì dai, risponderò anche questo video che ha fatto Luca sul commento Master Hining, l'allenamento di Master, eccetera, eccetera. Non sapevo nemmeno, me l'ha segnalato, va bene. Devo dire che mi annoio un po' sta cosa perché ho già risposto varie volte a queste cose qui. E vabbè, lo faremo di nuovo in maniera più selettiva, precisa, confutando punto per punto, insomma. Vedi che mi annoio, avesse per ragione, vabbè, comunque mi compete farlo. Allora, ragazzi, dunque, io vi devo dire questo. Partiamo da un presupposto, che è quello base. Allora, quando la gente vede questo video, sia incompetenti e sia presunti competenti, la prima cosa che dicono è, no ma questo uomo non si sa allenare, non si sa allenare. Ok, se questo assunto fosse vero, cioè che non mi so allenare minimamente, poi vi dicono, no ma proprio non si sa allenare, cioè, ecco, guardate che io vi dico una cosa, chi non si sa allenare da natural, perché ho detto da natural? Perché se uno non si sa allenare ed è bombato, migliora lo stesso. Perché chi si bomba, automaticamente, è tutto indifferente, allenamento, diete, sono sciocchezze, è solo la chimica che fa la differenza. Quindi, se uno non si sa allenare da natural, state certi che i risultati non li ottiene minimamente, ma proprio minimamente. Quindi, se questo assunto fosse vero, io non potrei essere quello che sono. Come ho fatto a costruire in tutti questi anni l'attuale fisico che ho mostrato sempre recentemente, che stupisce sempre la gente? Cioè, più 20 HP, con la dame scolpito, 50 di braccio pompato, deltoide. Se io non mi sapesse allenare in tutti questi anni, come avrei fatto a costruire questo fisico? C'è una risposta a questa domanda? Sì, la dico io. La risposta è che mi so allenare. Quanto meno io, per come mi devo allenare io, mi so allenare. Qualcuno dice, no, ma tu non ti sai allenare, però geneticamente sei portato, ma dove? Io sono portato geneticamente, ma non ha fatto, non è così. Io sono migliorato molto lentamente nel corso di molti, molti anni, decenni, mettiamola così. Non sono come qualcuno che per alcuni anni è stato mediocre, poi dopo negli ultimi anni è esploso. La genetica non può funzionare così. La genetica, quando c'è, si vede fin dagli inizi. La genetica funziona così nel culturismo, ve lo spiego una volta per tutti. Genetica, diciamo, di un natura. Un ragazzotto comincia ad allenarsi nel culturismo, o chiunque, molto dotato. Bene, i progressi arrivano molto velocemente all'inizio, di più rispetto agli altri. C'è un'accelerazione. E in due o tre anni arriva a un buon fisico. Buon fisico, eh, non come professionisti mister Olimpia. Raggiunge un buon fisico superiore alla media dei mediocri e la raggiunge molto rapidamente. Questo è il talento genetico nel culturismo. Dopodiché questa cosa si ferma lì. Punto. Punto. Non è che proseguo oltranza. Non funziona così. Però quello che voglio dire è che i progressi si vedono all'inizio, non alla fine. Allora, io per tutti i miei primi anni di allenamento, se guardate anche le foto da come sono partito, non ero nulla, non avevo niente. Non avevo nessuna genetica, perché non succedeva niente. I miglioramenti sono iniziati a arrivare quando ho cambiato le cose, anche relativamente a come mi allenavo, oltre che le strategie, le MWS, eccetera, eccetera. Mi sono arrivati lentamente quando ho cambiato le cose e sono andato avanti gradino per gradino e ci ho messo tanto tempo ad arrivare alla vetta. Questa è la spiegazione. Ma se io non mi sapesse allenare tecnicamente, non avendo talento genetico, non avrei potuto stimolare la muscolatura in un modo veramente efficace fino a questi livelli incredibili. Perché la verità è che quello che avete visto in quel video, adesso io poi non sto ad analizzare punto per punto, perché poi le critiche tecniche fatte da Luca punto per punto sono anche, dal mio punto di vista, ridicole. Ma non ha senso che le sto a discutere, perché quelle sono le mie esecuzioni. Quando un genio fa una cosa geniale e qualcuno dice no, ma questa cosa è sbagliata, ve lo ripeto, è un po' come quando che era Michael, Michael, vabbè, Michael adesso non vorrei dire una cretinata, comunque, il detentore dei 400 metri piani, Michael Johnson, adesso non vorrei dire una sciocchezza, comunque, quel tizio che correva con lo stile da papera, vi ricordate? Cioè fece il record del mondo pauroso con una corsa di stile da papera che tutti i tecnici dicevano ma questa corsa fa, non ha senso, è sbagliata perché sta impettito, c'è il passo corto, tutte cose così, no? Ha fatto il record del mondo. Ora, le critiche che fanno a master sul mio stile, il mio, sono del tutto ridicole perché su di me quelle cose funzionano alla grande. Non mi interessa quello che non si fa così, la biomeccanica, la stabilità, cosa state dicendo? Io quando alleno i muscoli, io li alleno al miglior modo possibile che posso fare nel mio contesto ed è così, perché ho questo istinto di farlo al meglio. Non è neanche detto che se voi fate quello che faccio io, funziona, funziona per me. Quindi, capite come veramente fa critiche tecniche a master dopo quello che ha mostrato e mostra al mondo sono senza senso. È questo che voglio dire. Adesso entrerò anche tecnicamente in qualche cosa. Attenzione poi, ve lo ripeto che quello che vedete lì è come, diciamo, un pittore che fa un quadro con uno stile su del tutto personale che i critici non capiscono, possono anche dire questa cosa è senza senso, non so, oppure, non so, un atleta d'elite, un ginnasta che fa un esercizio incredibile e subisce le critiche dei tecnici, sì, però così non va bene perché qua e là hai cose inutili. Il talento del genio è quello. Oppure potrei dire anche come un ballerino che in freestyle fa delle cose eccezionali e poi dicono sì, però questo non è nei canoni del ballo, cosa stai dicendo? Il culturismo e la biomeccanica ha un senso per le esecuzioni scolastiche che sono quelli che devono imparare i neofiti. Dopodiché, anche lì nel culturismo si va in freestyle, stile libero. È chiaro? È lì che si vede il genio e il master in questa cosa è geniale, se non sarebbe quello che è. Voglio dire questo, le cose che insegna Fulimersio non sono quelle, non sono quelle, ma parte così, diciamo, qualche traccia di base. Nel Fulimersio che facciamo insegno l'esecuzione super degli esercizi. Che cos'è? Ve l'ho già detto. C'è l'esecuzione scolastica. Avete visto i bambini che vanno a scuola e imparano lettere dell'alfabeto per scrivere le paroline? Ecco, quella è l'esecuzione scolastica degli esercizi. Allora, la panca la fai così, non so, le spinte le fai così, sono esecuzioni scolastiche. Dopodiché, cosa fanno i bambini? Vanno anche alle medie, ai superiori, poi si va all'università e addirittura chi va all'università poi diventa ricercatore e quindi va in campi sconosciuti. Ecco, Master in esercizi ha fatto questo. Io insegno la versione non plus ultra degli esercizi che, vi ripeto, non ve la insegna nessuno, ma sapete perché vi dico queste cose? Perché anche qui mannoi in modo incredibile. ogni volta, ogni volta, in modo ossessionante, in modo veramente sistematico, tutte le volte che io correggo gli esercizi e dico no, guarda, perché vi ripeto la scenetta com'è, è avvenuta centinaia di volte, la scena è questa. Allora, ciao carissimo, che sono tutti contenti come sono da Master, perché sono anche emozionato, bene. partiamo da questo esercizio, tu fino adesso come l'hai fatto? E lui dice, adesso ti faccio vedere, sì, fammi vedere. Non appena comincio, dopo due secondi, io alzo la mano e dico stop. Lui fa perché? Ho già visto. Che cosa? È tutto sbagliato. Ma come? Ti garantisco che è tutto sbagliato. Ma come? A me me l'ha insegnato così, i campioni lo fanno così, i personal trainer me l'ha insegnato così, i miei amici fanno così, vedo gli influencer nel YouTube che fanno così, tu mi dici che è sbagliato, sì, è sbagliato, va bene, vediamo, gli spiego tutto, glielo faccio provare e la reazione che hanno è sempre quella. Ma Master, ma questa cosa è incredibile, dico, che cosa? Adesso sento veramente il muscolo che lavora al meglio, adesso sento veramente che è tutta un'altra cosa, ma come mai non me l'ha mai detto nessuno, come fai tu a saperlo? Io lo so, perché sono Master. E per ogni esercizio che si fa, imparando queste nuove esecuzioni super, veramente, si apre un mondo a questi ragazzi e poi dopo molti si fanno anche riprendere, chiaramente, perché questo patrimonio tecnico che acquisiscono, che è immenso, sarà loro per tutta la vita. Quindi, io ho sempre detto, il full immenso di Master non è una spesa fatta a casaccio, è un investimento tecnico per tutto il futuro dei vostri allenamenti. Pensate cosa significa allenarsi con versioni super in tutta la vostra carriera futuristica, sul lungo termine. Pensate che cosa vi torna indietro, ecco perché vi dico che è un investimento. Allora, questo poi va anche nel coaching online, chiaramente, correggere per video, facciamo anche questo, con il coaching online, però dal vivo, chiaramente, molto più, più, più precisa la cosa, più selettiva. Quindi, questo per spiegare, insomma, al full immenso che cosa facciamo e perché c'è questo grande successo. Allora, vado un po' qua, lì a random, perché poi, insomma, il video, sì, l'ho guardato, ma così abbastanza stancamente. Tra l'altro, non ho un consiglio a Luca, sì, adesso ti ha preso la frenesia, fai tutti questi video di botto su questo, su quello, su quell'altro, fai un po' come quello a Chiara Polico in Svizzera che fa tutti i video su altri, però tecnicamente non lo state spiegando più niente alla gente, cioè fate video che magari, sì, possono anche divertire, ma se non si fa anche qualcosa di tecnico, se non si insegna, se non si danno qui, se non si fa la vera informazione, che questo è il nostro ruolo, non so, alla fine diventa anche una cosa un po' noiosa, dopo alla fine si rischia di fare, come fa molti, a questo punto fai solo teatrini, avete fatto caso che qualcuno prima faceva il grande tecnico, poi a un certo punto ha detto, no basta, adesso fai solo teatrini, e fateci caso, ecco, non vorrei che, Lucas, fai la stessa fine, quindi devi anche dire qualcosa ai tuoi ragazzi di importante, tecnicamente, ma non, diciamo, come si usa l'oxandolone, come si usa, non sono quelle le informazioni che devi dare ai ragazzi, sono come allenarsi, tu fai powerlifting, ti insegnerai il powerlifting, chiaramente, il culturismo credo che non sia di tua competenza, ovviamente, quindi bisogna fare anche queste cose qua, comunque, per esempio, il discorso della panca, quando si dice, non c'è stabilità, ma chi l'ha detto che non c'è stabilità, c'è la massima stabilità, assolutamente, ragazzi, se io ho fatto in video 165 e 170, i miei ragazzi, nell'ultima gara, lo ripeto, hanno fatto 165, 160, 150, queste performance qua, cioè, sono dei numeri, sono dei numeri, e chi le fa, senza bombe, dove sono sta gente, dove sono questi ragazzi, ragazzi, normali, che fanno queste cose in palestra, con questi carichi, da natural, dove sono, io non li vedo, parlo nel culturismo, poi magari, nel powerlifting, voi fate solo quello, sarete anche più forti, però, io dico anche, che comunque, a parità di naturalità, perché se poi non si bomba, il discorso è finito, a parità di naturalità, guardate che i culturisti, non hanno, cioè, i miei ragazzi, non hanno molto da invidiare, a tanti powerlifter, perché sono forti, pur non essendo poi, il loro scopo, perché il nostro scopo, non è diventare super forti, diventare grossi, e ci mettiamo anche, come effetto collaterale, la forza, quindi, la panca che facciamo noi, ripeto, è la migliore possibile, per sviluppare forza e potenza, e vincere in palestra, e battere, i ragazzotti, o chiunque sapientone, che sia natura, chiaramente, ecco, quindi, poi altri esercizi, le critiche, no, perché qui, questo, quello, critiche che hanno poco senso, perché, cioè, quelle sono le migliori cose possibili, che Master applica a se stesso, e funzionano, quindi, se una cosa funziona, una può criticare, dalla mattina alla sera, però funziona, appunto, e non ho detto che quello, io non dico che quello che ho fatto lì, vale per tutti, non vale per nessuno, vale per me, quindi, ecco perché le critiche sono inutili, avete capito il concetto, e poi, chi vuole imparare veramente, le super tecniche, Master, insegna anche quelle, allora, poi voglio dire anche un'altra cosa, io, no, ho visto nel video, ho visto che Luca, chiaramente, mi sto allenando come un matto, sono tutto rotto, no, no, ma io capisco che l'impegno è enorme, perché c'è questi obiettivi, però posso anche dirti, che i Natura fanno la stessa cosa, non hanno il supporto, un chimico, ma fanno la stessa cosa, si allenano intensamente, fanno fatica a recuperare, perché fanno fatica, fanno anche loro i sacrifici, fanno anche a loro letto, che sono stanchi, ma poi magari anche gente che lavora, che ha famiglia, che ha figli, porti i bambini a scuola, quindi, sicuramente ti allende una mente, ok, ma lo fanno anche in Natura, e magari con molti più problemi di vita, perché io ti ripeto, che se uno lavora, ha famiglia, si allena, i sacrifici sono il triplo, magari di uno che non ha famiglia, non lavora, non lo so, magari il tuo lavoro è quello, però, quindi i Natura, fanno, ma secondo me, nemmeno gli stessi sacrifici, li fanno in misura molto, molto superiore, proprio perché hanno molti più impegni nella vita, poi molti ragazzi studiano, vanno all'università, io ne conosco tanti, quindi si impegnano, fanno su e giù con l'università, poi c'è la palestra, poi c'è chi fa l'operaio, poi ripeto, chi ha famiglia, bimbi, scuola, un bambino ha dormito di notte, al mattino li porta a scuola, la moglie, eppure si allenano duramente, il meglio possibile, si è iniziato a recuperare, magari con il cortisolo che si è alzato, sono stanchi, non hanno il supporto, non hanno il supporto sotto, l'aiutino, aiutino, aiutone, quindi i veri eroi sono quelli, dal mio punto di vista, non dico che tu o gli altri, non vi allenate duramente, vi allenerete anche duramente, ma come fanno anche in Attura, e però non hanno il supporto, quindi sono loro, sono molto più eroici, sotto questo punto di vista, io su questo, questa è la mia visione delle cose, del culturismo, del Paolo Liffi, io dico che i veri eroi sono in Attura, e vanno apprezzati molto di più, di quelli che diciamo, faranno anche sacrifici, mettiamola così, ma hanno un grande supporto, e non è vero che chi si bomba, si allena di più, allora, può anche darsi che si allena di più, ma perché sono sostenuti, sono sostenuti, per forza, possono avere anche più concentrazione, più carica agonistica, aggressiva, ma perché sono supportati dagli androgeni, che danno questa cosa, in Attura fa quello che possono, e ci mettono in massimo impegno, quindi io qui veramente, faccio fatica, a non mettere questa linea di demarcazione, tra i sacrifici, di chi è supportato, e chi non è supportato, per me i veri eroi sono questi, chi non è supportato, questi sono i veri eroi, poi le performance saranno inferiori, va bene, i risultati saranno inferiori, va bene, ma loro sono i veri eroi, i veri eroi sono loro, perché altrimenti, se uno vuole stare alla pari, faccia quello che deve fare, senza supporto, vediamo un attimo che cosa succede, chi è veramente in grado di fare i grossi sacrifici, quindi tecnicamente parlando, ripeto, questo video lo si può criticare finché si vuole, ma è l'opera di un genio applicata a se stesso, quindi è inimitabile, inapplicabile su chiunque, le critiche non hanno alcun senso, mentre il fisico di maestro è quello che è, e ribadisco che noi insegniamo veramente le lezioni super sezionali di allenamento che finché uno non le prova non ci crede, perché lo so che molti dicono, ma che se non voi state a credere a quello che dice questo, cosa vuoi che ti insegni, saranno le stesse cose, non solo le stesse cose, non troverete mai uno che è venuto a fare il fullimension con me e vi dirà, ma sì alla fine le cose erano quelle, cioè ho fatto un viaggio inutile, ho fatto una spesa, che è consistente, inutile, no, vanno via tutti contenti, secondo voi se uno fa un viaggio enorme, che viene qua, c'è gente che viene da tutta Italia, alcuni dalla Svizzera, qualcuno è venuto dall'Australia, è venuto due volte da Hong Kong, era un pilota di aereo, lo saluto, non so dove sia adesso, secondo voi tutta questa gente è venuta qua per cosa? Per vedere, per farsi imparare le esecuzioni scolastiche che le può insegnare in qualsiasi personal trainer, a questo punto ci sarebbero tutti lamentati e non sarebbe venuto più nessuno, mentre invece è il contrario, sono tutte ipercontenti, la gente aumenta, fatevi qualche domanda e così vi rendete conto del valore professionale e tecnico di Master, grazie a tutti, al top!